Vissuto nel 1500 fu un grande santo e fu anche ritenuto tra i massimi poeti d'amore di lingua spagnola. Parliamo del carmelitano San Giovanni della Croce a cui è dedicato l'ultimo corposo lavoro di padre Antonio Sicari, anche lui carmelitano, con all'attivo 130 ritratti di santi, alcuni dei quali sono studi particolarmente approfonditi. Da una parte c'è la poesia di San Giovanni della Croce che è considerata la più bella poesia d'amore spagnolo dall'altro ci sono i suoi commenti che sono teologicamente altissimi e la sua dottrina mistica. Ecco, questo è importante, dove la parola mistica vuol dire tutta la realtà, l'uomo, Dio, la natura divina, la natura umana, la chiesa, tutta la realtà, è come una specie di visione nuziale della realtà, dove tutta la realtà è misteriosa, ma dove ogni amore, da quello che la creatura prova verso l'altra persona, verso le cose, ogni amore richiama un amore più grande. Quanto più un'anima, una persona va al fondo nel discorso dell'amore di Dio o si innalza verso quest'amore, tanto più trascina con sé ogni creatura umana. Titolo del libro Il Divino Cantico di San Giovanni della Croce, edito da Iacabuc. Alcune liriche furono scritte da San Giovanni quando, ingiustamente accusato, fu rinchiuso per un periodo della sua vita in carcere. Fu qui che reinterpretò in forma poetica per la prima volta il Cantico dei Cantici Biblico. Le liriche sono riportate nelle ultime pagine del libro, con il testo spagnolo a fronte. Sì, il periodo era difficile, diciamo, dal punto di vista ecclesiale. È il periodo immediatamente legato alla riforma luterana, quando la chiesa è divisa e c'è una riflessione, diciamo, che Lutero fonda moltissimo sulla fede, ma una fede che è un aggrapparsi quasi disperato a Cristo e in questo aggrapparsi la creatura umana in qualche modo viene vista soltanto nella sua negatività, negatività del peccato, negatività della ragione, negatività di tutto, ecco, è solo Cristo. San Giovanni della Croce, diciamo, riscatta, è un'idea bellissima, in fondo dice questo, Dio ci ama, se ci ama, ci ama da Dio, ma amandoci ci dà il diritto di amare Lui come Lui ama noi, cioè ci dà il diritto in qualche modo di diventare noi stessi divini.